Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radiobari in studio Silvia De Sandi. In apertura parliamo di politica, sfilano i big in Puglia in vista delle regionali. Oggi a Bari la presentazione del Movimento Schittulli Area Popolare alla presenza di Gaetano Quagliarello e il servizio di Silvia Di Pinto. Impossibile vincere pensando che Fitto vada eliminato, certo saremo stati più forti insieme ma non tutto è ancora perduto. Parole polemiche con gli ex alleati di Forza Italia, quelle di Gaetano Quagliarello, coordinatore di Area Popolare Nuovo Centrodestra, la formazione che corre alle regionali del 31 maggio in una lista unica con il Movimento Schittulli. La presentazione dei candidati è ancora una volta occasione per lanciare stoccati agli avversari, a destra come a sinistra. Certo divisi abbiamo degli handicap, dice Quagliarello, ma anche Emiliano li ha, visto che sta imbarcando in coalizione di tutto e di più. E a Salvini che ieri da Bari ha detto mai con Alfano, Quagliarello replica così. La verità è un'altra, è che la Lega è diventata una specie di cagnolino che quando al sud Forza Italia schiocca le dita arriva al richiamo. Dovrebbe spiegare Salvini perché si è presentato in Puglia e non si è presentato in Campania. A salutare i candidati anche il sottosegretario Massimo Cassano e di qualche giorno fa una nota dal sapore disfattista andiamo incontro a una sfoccia e lo aveva scritto Cassano che oggi prova a non darsi per vinto. Certo, diciamo un po' di professionalità in più per mettere insieme delle forze politiche che hanno gli stessi obiettivi forse sarebbe stato meglio. Ma comunque il passo oramai è quello che è stato fatto tutto e quindi dobbiamo puntare soprattutto a cercare di mettere in difficoltà un centro-sinistra che per la verità ha governato malissimo in questi ultimi dieci anni. Presentazione della lista alla luce del sole. Il Partito Democratico ha scelto la spiaggia cittadina di pane e pomodoro per presentare la squadra che competerà le elezioni del 31. Le potenzialità per ottenere un ottimo risultato e proporsi come punto di riferimento del centro-sinistra ci sono tutte, ha commentato il segretario provinciale Ubaldo Pagano, anche grazie al coinvolgimento di candidati, espressione della società civile e di movimenti di carattere regionale. Maicon Alfano, Maicon i comunisti, si è presentato a Villa Romanazzi Carducci con la maglietta di Bari. Ieri sera Matteo Salvini, leader della Lega Nord e ispiratore del movimento Noi con Salvini. che in Puglia sosterrà Adriana Polibortone. 300 persone ad accoglierlo per parlare di sanità, migrazione e regionali. Sentiamo le sue parole a proposito di sud e identità. Per portare un po' di lavoro in più e un po' di clandestini in meno, un po' di sicurezza e un po' di futuro. Sostegno alle famiglie, la sinistra sta alimentando la paura, il lavoro a tempo determinato, sta tassando gli agricoltori con l'Imu, sta massacrando di tasse gli studi di settore. La legge Fornero, che grazie alla Lega adesso sta cambiando, quindi siamo qua per dare una prospettiva diversa alla Puglia. C'è anche una Puglia che può liberarsi dalla sinistra e l'unica alternativa possibile dopo il portone Noi con Salvini. Ecco la maglietta Bari, che cosa vi aspettate da questa città e da questa regione? Partecipazione, partecipazione del 31 maggio, orgoglio, voglia di camminare con le proprie gambe. Io indosso con stra-piacere le identità, perché l'Italia sta insieme solo se riconosce le sue bellissime diversità. Dal Salento, passando per Bari, perché se tutto passa da Roma, se tutto passa dallo Stato centrale, non ne vediamo più fuori. E questo pomeriggio alle 17.30 al Cinema Galleria, la manifestazione conclusiva di Oltre Confitto, la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio regionale pugliese, guidate dal politico di maglie. Fitto anticipano gli organizzatori, spiegherà le ragioni che hanno portato alla divisione del centrodestra in Puglia e la scelta di sostenere il candidato presidente alla regione Puglia, Francesco Schittulli, che sarà presente alla manifestazione. Fitto traccerà anche le prime linee di un nuovo percorso nazionale, oltre i patti del Nazareno Romani e Pugliesi. E si susseguono gli incontri dei candidati alla presidenza della regione Puglia con associazioni e realtà della società civile. Questa mattina Emiliano Schittulli e la Polibortone hanno incontrato al Petruzzelli i presidi del Libro in un forum sul futuro della cultura in Puglia, dal titolo Apriti cielo. I presidi hanno voluto presentare ai candidati quanto è stato fatto in questi dieci anni, un patrimonio, hanno spiegato, che non va disperso e che va anzi ancora di più valorizzato. La Polibortone ha parlato di servizi, Emiliano si è soffermato sul tema cultura popolare, Schittulli ha voluto elencare quanto ha fatto in questi anni la provincia di Bari sotto la sua guida. E questa mattina nel Palazzo Ateneo a Bari il seminario Aldo Moro frammenti di una vita. L'evento si inserisce nel programma di manifestazioni organizzate per celebrare i 90 anni di attività dell'università. Presente la senatrice Maria Fida Moro, il servizio di Cristina Ferrigni. Questo non è un paese, è una cozzaglia di delinquenti. Così Maria Fida Moro, figlia dello statista Aldo Moro, riferendosi agli scandali e ai casi di mala gestione della politica in Italia. Poi l'appello forte e commosso al Parlamento per l'approvazione della tanto attesa legge sulle vittime del terrorismo. La senatrice Moro, primogenita dello statista ucciso per mano delle Brigate Rosse il 16 marzo del 78, ha ricordato in un seminario nell'aulamagna del Palazzo Ateneo la figura del papà, considerato un santo, un grande uomo e ha chiesto che la Puglia non dimentichi il progetto di beatificazione di Aldo Moro. Pessimista Maria Fida Moro sul futuro dell'Italia, non esiste più democrazia, non esiste politica, ha detto. Quale futuro vede per l'Italia? Brutto, triste, amareggiante, a meno che i bambini e le donne non prendano il potere, quello buono. Esiste che questo è un regime parlamentare e mi sembra che non lo sia più. Se non siamo più neanche quasi in un regime parlamentare, forse non c'è più la democrazia, quella che era stata sancita nella Costituzione Repubblicana. La figura di suo padre come uomo politico e come figura umana? Beh, è una domanda a cui è un po' difficile rispondere in un attimo. Diciamo che era una persona straordinariamente buona e questo spiega tutto. Come avrebbe giudicato la politica contemporanea? Beh, se lui fosse stato qua non l'avrebbe giudicata, ma l'avrebbe fatta essere normale, perché adesso non c'è una politica. Gli ex inviati baresi di striscia alla notizia, Fabio e Mingo, rispondono di simulazione di reato con riferimento al servizio sul presunto falso avvocato, che sarebbe in realtà una messa in scena che è costato ai due il licenziamento dal Tg satirico di Mediaset. Nel fascicolo d'inchiesta coordinato dal PM di Bari, Isabella Ginefra, sono indagati per lo stesso reato anche il presunto falso avvocato, che secondo gli accertamenti della magistratura barese sarebbe un attore e le altre due persone che hanno partecipato alla realizzazione del servizio è andato in onda nel 2013. Le indagini sono affidate al nucleo di polizia giudiziaria dei carabinieri di Bari e al momento si concentrano su quell'unico episodio. E sono cominciati questa mattina i lavori di ricostruzione di una delle due fontanine di Piazza Umberto distrutta due settimane fa da un gruppo di vandali. La colonnina d'acqua, seppur non funzionante, era stata completamente sradicata dal suolo e lasciata per terra. E' appena terminata la tre giorni dedicata al santo patrono di Bari. Tra i tanti appuntamenti ricadeva San Nicola Arte e Tradizione, un'esposizione con cui artisti e locali gli hanno reso omaggio. Ce ne parla Giovanni De Benedictis. Sagra di San Nicola, giorni di preghiera per cittadini e pellegrini, oltre che di svago, declinato in più modi. Ma l'arte è unita alla devozione. Che fine fa? Artisti di Bari e provincia hanno omaggiato il santo patrono del capoluogo con una mostra nel borgo antico, allestita a pochi metri dalla chiesa di Santa Teresa. Organizzata dalla Bari PAC, presepi arte e cultura, è giunta la terza edizione ed è dedicata alla memoria del pittore Lillo Dellino. La novità che abbiamo in questa mostra quest'anno riguarda questo libro, scritto da Dario Dellino con la collaborazione di Claudio Losghi Ranieri. È un libro che narra leggende e miracoli su San Nicola, da una parte in lingua italiana, dall'altra parte in lingua russa. Unitamente a questo libro ci sono anche litografie degli stessi artisti, che sono abbastanza belle. Tra le tante creazioni esposte, quadri, icone, tegole decorate, ampolle per la manna, presepi e statue, tutte apprezzate dai visitatori, spesso stranieri. Peccato solo che si è mancato uno spazio più in vista, come ha sottolineato l'organizzazione, magari al posto di qualche bancarella. Non si vive di solo pane. Gli artisti pugliesi e le loro indipendenze. Si è conclusa ieri la quarta edizione del concorso, organizzato dall'Associazione Agorà Mediterranea con il patrocinio del Comune di Bari e delle Accademie di Belle Arti Pugliesi. 25 le opere in mostra alla Sala Miurà dal 5 al 10 maggio. Il premio della giuria è stato vinto da Leandro Summo per la sua Nexit. Il premio del pubblico invece è andato all'opera 35 di Katia Addese e Giuseppe Magrone. Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo sereno, temperature comprese tra 16 e 22 gradi, venti moderati, mare poco mosso. In chiusura vi ricordo come di consueto i nostri indirizzi internet www.telebari.it, radiobari.net, info, chioccio l'insegnodizorro.it Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito. Più tardi con informazioni di Telebari. Grazie a tutti.